Mi parte a vedere Max perché ieri che è nato stava proprio male perché mio padre e tutti gli altri che sono qui non sanno bene tenerli e allora sono venuto io oggi e era proprio in fin di vita e l'ho preso l'ho portato qui non apriva neanche gli occhi non si muoveva non faceva niente non faceva più 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 niente e invece oggi l'ho preso e gli ho dato qualche pezzettino di questa dove è finita qua proprio pezzettini piccoli 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 microscopici poi bagnavo il dito qui gli davo un pochino di acqua adesso forse è un po' di freddo perché siamo davanti alla stufa che poco tempo fa era accesa ma adesso si è spenta mi sa o va ma è lenta va piano e siamo qui davanti con due calze vecchie che non usiamo qui c'era dove stava che non è il massimo perché pieno è un po' pungente e gli davo un po' di acqua un po' di questo e adesso sta meglio prima cinguettava vedete che già apriva gli occhi prima adesso perché è un po' stanco ha mangiato prima adesso un buon segno non ha mai fatto la cacca ancora è nato ieri non ha ancora fatto la cacca prima l'ha fatta stavo facendo il video ma è dato male ho trovato la cacca qui e niente speriamo che si riprenda ma già un po' si è ripreso come vedete perché era proprio un fin di vita sentite adesso a terra fa freddo quindi no deve stare qui poi fra due o tre giorni vengo di nuovo vengo domenica e sabato e se viene tenuto come si deve poi gli spiego cosa devono fare quanto e poi magari cammina già perché prima l'ho messo qui e si alzava però cadeva perché ancora non ha le forze di alzarsi però forza max che ti potrai alzare vabbè ciao 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 ciao